Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video, mi scuso se sentirete dei rumori da fuori ma a quanto pare hanno ben deciso di tagliare l'erba fuori al prato non so dove, proprio in questo momento mentre io ho iniziato il video. Oggi sono qui per presentarvi le ultime novità di Catrice Essence che appunto sono uscite, stanno uscendo, non me l'aspettavo ma su Instagram allora vi avevo chiesto se volevate vedere un video haul di tutti i prodotti quindi senza comunque provare niente o se volevate vedere direttamente i prodotti all'azione quindi dei first impression anche perché ieri proprio, adesso non so quando starete vedendo questo video però cerco comunque di caricarvelo il prima possibile, comunque per me oggi è venerdì, ieri che era giovedì sono stato a due press day, Uno di Catrice Essence e l'altro di Sephora, da Catrice Essence mi hanno appunto omaggiato di tantissimi prodotti e sono veramente contento che poi tra l'altro voi non potete immaginare la corsa che mi sono fatto per tornare in treno perché lo stavo perdendo quello del ritorno e non mi era accorto che si era fatta diciamo una certa e doveva andare via quindi mi sono prolungato a parlare, parlare perché poi gli eventi sono così ed è una cosa bellissima ecco perché ci vado spesso, non lo so conosci gente, parli del più e del meno, poi comunque sono persone che fanno il tuo stesso lavoro o comunque parli anche con persone che stanno dietro le email, a me piace comunque associare dei volti tra virgolette alle email perché di solito, cioè dato che il nostro lavoro si gestisce molto tra quindi email, contatti e cose varie però non sempre si incontra quella persona che ti sta parlando, quindi quando incontro queste persone che sono appunto le persone che mi mandano i pacchi, che ti chiedono magari di fare delle sponsorizzazioni, contratti di lavoro eccetera eccetera, cioè è bello, mi piace e quindi stare lì a parlare tutto il tempo anche con altre persone che appunto sono influencer, fanno youtube, lavorano con instagram e tutte queste cose, cioè ci sta veramente tanto da parlare quindi mi stavo completamente perdendo così nell'aria perciò alla fine sono dovuto correre a prendere il treno, non vi immaginate la sudata, se non è arrivato due minuti prima che il treno partisse, vabbè lasciamo stare, stranamente avete scelto il video haul quindi dove vi mostro tutti i prodotti senza comunque provare niente altrimenti diventerebbe un video di un'ora pensavo al contrario quindi questa volta facciamo eccezione e registrarò tutto il video struccato perché ogni tanto ci sta dai, un è di Essence e l'altro è di Catrice come potete ben vedere, raga sono uscite delle novità che vi dico preparatevi ci tengo tantissimo a ringraziare tutto il team che lavora per Cosnova che sarebbe un diciamo un gruppo o un'agenzia, insomma non so qui a spiegarvi bene nei dettagli che cosa sono e che appunto gestiscono anche gli invii di Catrice, di Essence iniziamo con il video haul, non so da quali iniziare delle due, iniziamo magari con Essence e poi finiamo con Catrice oppure faccio un mix, no iniziamo con Essence dai allora intanto vi faccio vedere questo sacchettino qui dove all'interno ci sono delle maschere, questo qui non c'entra nulla con Essence e Catrice ma diciamo che viene gestito tutto dalla stessa agenzia si chiama My Beauty Routine e fa tutte maschere coreane, quindi appena siamo arrivati all'evento ci hanno omaggiato di questa bustina con dentro dei prodotti che sono praticamente tutti gli step della, cioè tutti, diciamo sono alcuni step della skincare coreana, la tua beauty skincare routine coreana e appunto qui ci sono gli step del giorno e gli step della sera, ok così magari, ah non ho acceso la luce dietro no, spenta, molto bene cosa è successo, mamma? ok troppo bianco, allora forse così mi vedete meglio sempre leggo quelli per la notte, detersione oleosa, detersione schiumosa, esfoliante, tonico, essenza, siero, maschera in tessuto, contorno occhi, idratazione creme, emulsioni o lozioni sleeping mask, cioè mettono veramente un sacco di prodotti io non ho mai fatto questa, però potremmo provarla se vi interessa una cosa del genere, magari facciamo una delle due, o giorno o notte magari possiamo provare quella per il giorno, perché la maggior parte delle volte che appunto registro video o è sul pomeriggio, però presto, tipo dopo pranzo, tipo adesso oppure alla mattina, però alla mattina non lo faccio quasi mai perché cioè, una volta ho registrato un video di mattina e si vedeva da morire, avevo dell'occhiaio fino a qua, vabbè sto già a 5 minuti di registrazione e non ho detto praticamente niente allora, ve le faccio vedere così in grandi linee una maschera in tessuto al limone c'è un'altra maschera alla pesca questa qui, che dovrebbe essere al cedro poi c'è questa, che è la mia preferita perché c'è il cocco, ma poi c'è, guardate il pack e poi c'è un siero comunque dietro queste maschere c'è scritto tutto in coreano quindi non lo so leggere cioè, c'è anche ovviamente qualcosa in inglese ma la maggior parte è scritto in coreano comunque andiamo avanti e passiamo appunto alla bag di essence io ho cercato di suddividere un po' le cose di ordinare perché veramente avevo un casino col fatto che stavo all'evento, ogni tanto sbirciavo poi me le sono riviste in treno, quindi ho fatto un macello bag così, non stava proprio così ma l'ho organizzata un po' io allora, iniziamo con appunto dei prodottini inizio dal mascara questo qui è un nuovo mascara che si chiama What The Fake vi ho avvicinato così potete vedere meglio tutti i prodotti anche se vedete la mia faccia struccata mi dispiace questo è un mascara che dovrebbe dare volume e all'interno anche le fibre vi faccio vedere lo scovolino è fatto in questo modo l'odore mi ricorda qualcosa di dolce però con il classico odore anche di mascara non lo so, mi piace allora, questo si chiama The Blush e questo The Highlighter questi due ovviamente ancora non l'ho provati o meglio, l'ho provati sulla mano devo ammettere che qualcosa l'ho già provato poi c'è un'altra palettina per il contouring quindi per fare sia la zona di ombra che di luce il colore reale è così perché se lo metto così c'è la luce sparata contouring duo palette era abbastanza intuibile poi c'è questo che è un primer per il viso appunto si chiama Hydrating Pure Perfecting Primer è idratante e perfezionante e ha l'SPF 20 ho letto un po' l'inci di certo non è prettamente naturale ha abbastanza siliconi poi c'è un rossetto in bullet semplice che fa parte della collezione Perfect Shine Lipstick ed è fatto così poi c'è questo che è un balsamo diciamo idratante, trasparente però all'interno la particolarità è allora questo però la mi sto trippando cioè che cosa ho detto? aspettate vedete che ha tutti i glitter all'interno questa qui è la 01B Happy e questo qui fa parte della collezione Crystal Power perciò detto questo raga vi dico preparatevi alle novità appunto sempre della collezione Crystal Power ci sono queste due ragazzacce una è una palette viso e l'altra occhi allora iniziamo all'interno contiene illuminanti e blush questo qui l'ho swatchato questa è la palette io non so se state vedendo quanto è bella ma vi giuro che appena ho visto questo dato che vedevo allora questo qui si chiama Shine Bright Shine Bright like a diamond uh uh è a calla ci ho ficcato l'unghia dentro allora questi qui sono due blush e due illuminanti allora in realtà si potrebbero anche definire tutti illuminanti perché comunque questi due blush sono molto luminosi come appunto questi due illuminanti quindi se vi piace l'effetto del blush luminoso ok magari appunto una carnagione scura li può utilizzare come illuminanti o altrimenti come ombretti non so se avete presente l'illuminante quello di Fenty Beauty però che sembra tipo gel... gel... geloso? geloso si dice geloso comunque che sembra bagnata ma non lo è identico identico non sto scherzando cioè voi fate così lo vedete sul dito a parte i riflessi quando vi faccio così non sento niente sento solamente liscio cioè è come se io sulle dita non avessi niente e ha una texture che è no adesso ve lo devo swatchare perché no raga dal vivo secondo me è un'altra storia proprio cioè si capisce che non ha base perché quando appunto giro il dito non vedete nessuna texture nessun prodotto insomma guardate un effetto bagnato che fa paura gli altri invece non hanno questa texture hanno sempre una texture molto sottile ma che si sente di più rispetto a lui l'unico che ho voluto provare è stato no come va che la scarica ma dai sempre della collezione Crystal Power è la palette occhi cioè guardate la bellezza ma poi sapete perché mi piacciono cioè comunque fondamentalmente è molto semplice come palette però mi piace perché si vede un sacco che sia Catrice che Essence hanno fatto un salto di qualità incredibile cioè io non me lo sarei mai aspettato eppure raga hanno fatto dei prodotti che tra l'altro i pezzi forti ancora non ve li faccio vedere ma adesso arrivano e soprattutto si vede proprio la ricerca nel pack la ricerca nella qualità del prodotto in sé la ricerca nelle texture nuove invece di rimanere sempre nelle stesse cioè si vede che hanno fatto veramente un salto di qualità e sono molto contento di questa cosa questa ad esempio ancora non l'ho toccata nemmeno una volta quindi fatemela toccare vi prego comunque poi le vedremo magari bene all'opera adesso ragazzi passiamo ai pezzi forti i pezzi forti in questo caso sono tre e sono tre palette e sia Catrice che Essence hanno fatto il boom con le palette viso, illuminanti, occhi ma comunque con le palette allora iniziamo da questa che è la Epic Sunset di Essence appunto allora sappiate che io già ho levato etichette copertine robe cose già tolto tutto tranne quelle che hanno gli adesivi perché in alcune appunto ci sono gli adesivi adesso vi faccio vedere questa appunto è la palette con due cialde il viso credo però penso proprio di sì opache mentre tutto il resto che vedete sopra quindi degli ombretti sono tutti shimmer tranne uno questo qui che è una torta di grayish ovvero un beige marrone con una punta di grigio e di viola quindi è quasi un marrone malva solo me l'hanno messo proprio per fare una transizione dell'occhio e poi sviluppare tutto il makeup allora avrei preferito magari qualche opaco in più perché comunque è molto bella come palette perciò se ci fossero stati degli opachi avrebbe dato proprio quel twist in più magari fatemi sapere voi se preferite tutti i shimmer tutti i opachi o una via di mezzo anzi vorrei toccarla adesso a me ispira questa cialda per il viso molto bene ah ah però cioè raga wow molto bene ok proviamola carina anche questa stavolta l'ho presa meno ovviamente questa qua allora provo al volo qualche shimmer così per vedere ok questi hanno una texture leggermente più spessa rispetto agli altri bello molto bello questa qui si chiama oh my contour questi sono tutti gli adesivi e la palette in sé è questa molto bello tutto il pack qui hanno un grande specchio una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che tutte le palette hanno gli specchi tutte dalla prima all'ultima non ce n'è una che non ha lo specchio si ha pure più piccole che più grandi allora qui sopra ci sono tre varianti più chiare che è una cipria rosa una gialla e l'altra più neutra mentre sotto ci sono tre terre una più calda una più fredda l'altra sempre neutra passiamo adesso a un'altra palette che appena l'ho vista e ho detto oh mio dio sono bellissime allora questa qui si chiama Supreme Party ce n'è anche un'altra che ha preso Miriam tra l'altro quindi nel caso fate un giro sul suo canale vedete se la mostra tutto questo pack con i glitter che cioè si sentono è ruvida tutta la palette è molto ruvida oltre agli adesivi come vi dicevo la palette è questa qui anche lei appunto ha lo specchio sapete che queste palette così grandi mi piacciono l'altra invece appunto che ha Miriam è leggermente più naturale e leggermente più calda è un mix sia di opachi che di shimmer ma tanto sicuramente riuscirò a far uscire un make up molto strong anche con questa passiamo invece adesso alle novità di Catrice che anche queste sono molto 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 belle parto così con le prime cose che ho sotto mano allora hanno fatto delle nuove ciglia finte non ci sono solo queste ma ce ne sono anche altre queste sono quelle leggermente più extra hanno la bandina trasparente non sono molto intense diciamo all'attaccatura delle ciglia qui si chiamano Lush Couture Insta Extreme Volume Lushies ma non so quale modello sono queste ah inclusa la colla ma non l'avevo visto un'altra cosa che raga appena l'ho vista o comunque appena me l'hanno presentata sono impazzito perché sono troppo curioso di provarla è questo qui un nuovo mascara che è un semi permanente non riguardo tipo la curvatura l'intensità o altro ma di tinta cioè tingono le ciglia di nero come sapete uno dei miei mascara preferiti è questo qui nella versione appunto grigia che si chiama Glam and Doll Boost e infatti me ne sono fatto dare un altro perché questo è finito ormai sto cercando di prendere i rimasui ma è inutile è finito perciò posso anche buttarlo e appunto me ne sono fatto dare un altro ragazzi se trovate questo mascara prendetelo assolutamente perché penso sia uno dei migliori in commercio ce ne sono tanti che magari costano anche molto di più ma sgretolano oppure mi fanno le ciglia molto rigide oppure non si struccano bene mentre questo è perfetto in tutto e per tutto ovviamente non credo che si vede appena applicato ma si vede una volta struccato perché se deve tingere sì penso proprio di sì una novità sono i rossetti classici in bullet a parte il pack che è bellissimo ve li ho fatti vedere anche su Instagram appunto mentre facevo delle stories così all'evento sono dei rossetti sono dei rossetti opachi ma confortevoli e la cosa che mi fa impazzire più di tutte è l'estetica del bullet perché ha praticamente allora io non so se riuscite a capirlo ma è tipo granuloso ha una texture molto particolare sembra sembra tipo le mattonelle raga i mattoni poi ovviamente una volta che lo applicate diciamo almeno qui davanti il primo strato di questa granulosità diciamo si toglie allora come vedete comunque poi ovviamente dopo che si asciuga leggermente rimane molto più opaco e appunto è un opaco idratante hanno fatto la versione waterproof del famoso iconista è uno dei best seller diciamo di Catrice ha lo scovolino fatto in questo modo io impazzisco perché più sono piccoli i scovolini più vado fuori è uscito un nuovo primer idratante 10 in 1 allora io devo essere sincero quando leggo tipo 20 in 1 30 in 1 10 in 1 in un prodotto sono un po' scettico però ovviamente devo assolutamente provarlo prima di parlarne primer idratante anti imperfezioni natural glow anti pollution non si ossida pore minimizing insomma ha veramente un sacco di cose ve lo avvicino così potete leggere voi e si chiama appunto Tensational fantastico poi c'è un altro rossetto sempre in versione bullet tra l'altro mi piace un bottle pack cioè soprattutto questa parte qui sotto e mi piace il fatto che è anche abbastanza pesante quindi non male questo qui è della collezione glamourizer lip glow glamourizer scioglilingua la colorazione che ho io è la 010 one gold fits all questi sono molto più shine molto più idratanti rispetto a quelli che vi ho fatto vedere sopra perché vedete che rispetto al bullet il colore è molto più delicato molto più idratante mi ci sono appiccicato la carta sopra e visti così sembrano i rossetti di Jacqueline Hill con i peli morta hanno fatto dei nuovi gloss i gloss di Catrice sono i migliori perché tante volte si pensa che i gloss vabbè sono tutti uguali in realtà no assolutamente cambiano e anche tanto uno dei miei preferiti è quello della versione trasparente che io ho già eccolo questo qui ok cioè non è proprio trasparente diciamo un malva rosato ma una volta che lo applicate non si nota lo metto quasi su tutti i rossetti sono appunto della stessa collezione questo l'avrete visto sicuramente in altri miei video questa qui è la 090 Golden Zircon sì Zircon è scritto talmente piccolo che non riesco a leggerlo guardate i riflessi che ha è tipo un oro freddo con riflessi rosati è questo qui io vi giuro che hanno un odore non so descrivervi bene che cos'è ma è veramente ottimo mi ricorda un ciambellone mi ricorda una crostata sa di crostata ecco che cos'è ma oddio raga eccola ce l'ho la crostata alle visciole tipo amarene non so se conoscete le visciole perché ogni volta che lo dico dicono che cosa sono le visciole io tipo ho anche ciliegia sa anche un po' di ciliegia blush c'è un blush appunto nuovo si chiama blush box glowing più multicolor multicolor sì multicolor perché all'interno appunto ha più colori credo sia anche un po' sheer sì vedendolo così sulla mano devo dire che segna leggermente la grana proprio della mano non so se riuscite a vederlo ma appunto è questo qui quindi appunto se vi piace l'effetto luminoso del blush a me piace ma non in modo eccessivo quindi questo potrebbe anche starci a differenza magari della palette di prima di essence che erano molto luminosi un'altra palette di illuminanti il pack è tutto in marmo e la cosa che mi piace di questa palette è tra l'altro che fuori c'è tutto il pack così è di cartone mentre dentro dove sono i pan è in plastica spero che lo sentite queste sono le colorazioni una più chiara allora questa più chiara ha il sottotono abbastanza neutro questo qui al centro è un po' più dorato mentre questo è un sempre dorato ma molto più scuro non è scurissimo quindi credo che si possano utilizzare tutti e tre anche sul mio incarnato cioè alla fine non è molto scuro hanno fatto uscire delle matite per sopracciglia o meglio sono quasi più che matite sono tipo eyeliner però hanno tre dentini allora io l'ho detto anche a loro ero un po' cioè sono un po' scettico riguardo questi prodotti perché tempo fa già ne ho provati diversi e ogni volta non mi sono trovato granché bene quindi vedremo poi questo come sarà come vedete ha la punta con tre dentini che dovrebbero dare l'effetto del pelo questa qui si chiama brow comb pro micro pen arriviamo ai pezzi forti che sono due queste due palette una si chiama better than gold e l'altra si chiama queen couture vi faccio vedere questa perché la mia preferita è questa ma sono due categorie diverse allora questa è una palette occhi ha 18 colori all'interno si chiama gold and nude perché c'è anche un'altra versione di questa letteralmente più naturale e non più calda però si diciamo sui malva queste colorazioni così anche questa all'interno ha gli adesivi sono questi qua cioè raga guardate quanto è bella e queste qui appunto sono le colorazioni ve le metto sempre inclinate così magari le potete vedere meglio allora così i colori sono molto più veritieri cioè raga è qualcosa di pazzesco anche questa appunto non vedo l'ora di utilizzarla perché mi ispira un casino anche l'altra non era male infatti sono stato indeciso per un po' andiamo avanti passiamo alla mia preferita siete pronti? allora questa qui si chiama better than gold baked highlighter palette allora già che sono illuminanti cotti non per tirarmela però c'è un motivo se io ho fatto gli illuminanti cotti ma poi a parte a parte per la formulazione ma il pack siete pronti? boom guardate che bella e poi mi piace il fatto che sia così alta e non lo so mi ricorda un sacco non scrigno e appunto sono tre illuminanti cotti con tre colorazioni diverse e ancora non li ho provati cioè io ho resistito fino adesso per provarli perciò adesso lo devo fare scusatemi raga no vabbè ma questo questo è oro colato no raga ma è bellissimo proviamo quello in mezzo quello rosato no vabbè primo che è quello più chiaro wow cioè c'è questo più scuro che è qualcosa di spaziale comunque sia di Catrice sia di Essence questa è la mia paletta preferita ve lo giuro quindi con questo pezzo forte possiamo concludere tutto l'haul di oggi io comunque ringrazio tantissimo ancora il team tutto di Cosnova Essence, Catrice eccetera eccetera per avermi appunto omaggiato tutti questi prodotti non so se poi ne arriveranno altri nel caso dovessi ricevere qualcos'altro ovviamente ve lo mostrerò in video dato che sicuramente me lo chiederete dove si possono trovare i prodotti allora tutto il resto che vi ho fatto vedere penso lo potete trovare tranquillamente negli stand sia di Essence che di Catrice mentre tutte le palette quindi questa la palette quella ottagonale questa per gli occhi anche queste per esempio per il contouring tranne queste qui perché queste qui le potete trovare tranquillamente purtroppo non tutti i rivenditori avranno queste palette e soprattutto sono in limited edition a me dispiace un casino questa cosa infatti l'ho detto anche al team perché sono bellissime sono bellissime è una cosa nuova per tutte e due i brand quindi non capisco per quale motivo abbiamo voluto farle in limited edition che purtroppo non tutti i rivenditori le acquistano appunto per rivenderle e non tutti gli OBS hanno lo spazio per metterle a disposizione quindi a quanto ho capito non tutte queste palette verranno rivendute non so se su ad esempio Cosmetic for Less hanno qualche pezzo però sicuramente non le avranno tutte perché appunto mi hanno assicurato proprio questa cosa purtroppo io ovviamente spero di avervi tenuto compagnia sotto nei commenti fatemi sapere quale è stato il vostro pezzo preferito il mio ve lo ripeto è questa cioè assolutamente e fatemi appunto sapere qual è il vostro vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale